mi controllate se sta fallendo l'acqua della pasta per favore ehi svegliatevi che tardi auguri patricia mia almeno la torino maglia è pronto ti vuole il caffè beh mi posso riposare un attimo anche dalle 6 e mezza che sto svegliando 24 da vigilia 1 il bambinello qualcuno c'ha di nuovo fame? come ordiniamo le pizze? cucino io quale le pizze? e' pronto la cena? a tavola chi vuole un amaro? buon natale ciao ciao grazie ancora ciao grazie a voi beh ci siamo diversi alla fine no? e non basta che se domani santo stefano quale basta che ci dobbiamo mangiare ancora? 6 kg di pasta 6 kg di pasta